oggi stiamo già iniziando una discussione importante grazie al salva casa che è un inizio fondamentale per il settore ma dobbiamo fare molto di più nel nostro paese soprattutto il rappresentante delle categorie economiche professionali e di seguito cittadini ci chiedono una riforma drastica che deve andare in una direzione diversa e soprattutto è necessario oggi avere un testo unico del costruttore con principici unici in tutto il paese e con un regolamento poi specifico per le varie regioni la modifica del testo quinto della costituzione ha portato a una concorrenza fra gli enti e noi dobbiamo chiarirla proprio nel testo unico del costruttore altrimenti è impossibile anche procedere in tutto il resto partendo poi anche da una legge ponte per arrivare a quella perché altrimenti il settore sarebbe in difficoltà e una volta approvata dobbiamo avere il coraggio di abrogare tutte le norme precedenti noi oggi a livello urbanistico stiamo lavorando ancora su una legge nazionale la 1150 del 1942 e che è un po datata pertanto dobbiamo togliere tutto quello che era precedente altrimenti non possiamo nemmeno parlare di rigenerazione urbana proprio perché questa legge era in un momento storico opposto di oggi era fatta per ampliarsi per pianificare in un modo diverso oggi dobbiamo fare non l'espansione ma il riuso di quello che abbiamo anche con la demolizione ricostruzione per cui dobbiamo lavorare molto su questi settori lo sto facendo come parlamentare da diversi anni nella mia commissione lo sto facendo nel dipartimento lavori pubblici di forza italia e anche soprattutto ora con il mio intergruppo parlamentare dove proprio specifico progetto italia che parla di lavori pubblici edilizia e urbanistica il testo in elaborazione grazie allo spunto del comitato tecnico scientifico che rappresenta categorie economiche professionali e universitari del nostro paese e credo che a breve potrò fornire un testo proposta di legge che dobbiamo iniziare a lavorare e discutere in parlamento perché i parlamentari sono coloro che rappresentano il popolo per cui fondamentale che questa legge parti anche dal parlamento e io metterò tutto quello che è possibile raccogliendo le istanze di chi veramente lavora in questo settore affinché ci sia una norma quadro generale applicabile concreta che possa dare subito uno stimolo proprio anche sulla linea del codice appalti basato su dei principi